Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignol. Traffico regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana e sulla FIPILI. Sul raccordo sia in Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e Poggi Monsi Nord. A Firenze sul viale Milton disagi per una riduzione di carreggiata da via Leone X a Largo Martiri delle Foibe. Domani domenica 18 settembre lo Stadio Franchi ospiterà un importante evento sportivo, provvedimenti di sosta e di vieti di transito indicati in loco. Per maltempo i traghetti Torremar delle 16.05 con destinazione Cavo-Porto-Ferraio e delle 17.45 verso Capraia sono stati annullati. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!